Forse farò meglio a tornare quando non sarà tanto impegnato. Impegnato? Credevo che volessi dire ubriaco, ma non c'è abbastanza whisky in Georgia per farmi ubriacare abbastanza. Quanto ubriaco un ubriaco abbastanza? A volte la vita diventa troppo pesante per alcuni. È tutta questione di cellule cerebrali. Ogni sorso di liquore che bevi riesce a uccidere mille cellule del cervello. Prima muoiono quelle della tristezza, per cui fai un gran bel sorriso. Poi vengono le cellule della memoria. E quelle sono figlia di puttana d'ora a morire. Nella vita di ognuno di noi viene un momento in cui bisogna superare le avversità. Chi è là? Solo un uomo che cerca un posto per riposare i suoi piedi stanchi. Avrei potuto ucciderti. No, signore, vede, mi sono messo direttamente di fronte a lei. E a giudicare da come colpiva la palla, ho pensato che così non avrei corso pericolo. Mi chiamo Beggar Vance. Dal regista dell'uomo che sussurrava ai cavalli e in mezzo scorre il fiume. Lei ha perso il suo swing. Dobbiamo ritrovarlo. È un'occasione che capita solo una volta nella vita, Juno. E va bene, parteciperò al vostro maledetto torneo di golf. Un uomo tiene stretto il bastone come tiene stretta la vita. Di sicuro si prepara un bel temporale. Dieci anni e mai neanche una sola parola da parte tua. Non si fa così alla persona che ami. È successo troppo tempo fa. No, non è vero. È stato solo un momento fa. Ora comincia ad essere imbarazzante. Oh, no, signore. Direi che è imbarazzante già da un bel po' di tempo ormai. Lo sai che non posso mollare. Io sì. Volevo capire se lo sapeva anche lei. Quando stavamo insieme, che cosa ti piaceva di noi due, Adele? Mi piaceva come ballavamo. C'è qualcosa dentro di noi che è nostro e soltanto nostro. Qualcosa che non si può né insegnare né imparare. Non ti ci posso portare io. Devi cercare quel posto con il tuo cuore. E il ritmo del gioco è esattamente come il ritmo della vita. Volevi discutere di qualcosa? Perché questo non è certo il momento adatto per questo. Grazie. Grazie.